Realizza character per studi americani, sculture nell'ambito del modellismo, lavoro con Marvel e DC Comics, ma realizza anche campagne pubblicitarie, ad esempio con Tim. A Squale Qualano, a Taranto, per il MAP Festival coorganizzato da Orchestra della Magna Grecia e Comune, con i passanti, ha realizzato un progetto di co-creazione sulle impalcature ai noi eterne del Palazzo degli Uffici. Si sta avvicinando chi ha studiato, sta studiando il fumetto, ma anche dei ragazzini che ti chiedono qualche consiglio. Cosa gli stai dicendo? Vabbè, che nel fumetto il disegno è l'importante, la dedizione e l'impegno per ottenere piano piano dei risultati. Disegni e hai disegnato dei personaggi anche molto importanti, ma come si fa ad oggi, quando sembra già tutto esistere, a trovare qualcosa di nuovo? Vabbè, è stato creato talmente uno di quei personaggi che è difficile creare qualcosa di totalmente nuovo. Diciamo che il più è fatto, però delle nuove idee possono sempre uscire improvvisamente. Ti ispiri a qualcosa, se posso chiederlo? Vabbè, i miei autori di riferimento sono tanti, tra cui un autore canadese si chiama Stuart Timmonen, che è uno dei migliori attualmente nel mercato americano. La gente che ti sta dicendo qui a Taranto? Vabbè, i complimenti mi fanno emozionare, sono contento di essere qui. N Circuit toalmente N Purpose N Curience Bambi N Circuit toalmente